Ecco che cominciamo. Abbiamo fatto un minuto così di attesa. Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che chiude, non conclude, ma chiude semplicemente e temporaneamente la prima parte del ciclo Piazza in Dialogo. Un progetto che ha riscosso sicuramente molto interesse e vista appunto la numerosa partecipazione. Questa sera abbiamo usato come immagine di cartolina una vera cartolina che fa parte di una bella raccolta di cartoline dei primi del Novecento che si conserva in archivio di Stato, dono di un signore fatto moltissimi anni fa, oltre vent'anni fa. È una cartolina di inizio secolo con queste signore molto eleganti. Vediamo un giardino di Piazza Roma molto ricchi di vegetazione, ben diversi da come siamo abituati a vederli oggi. Questa sera ci addentreremo nel campo del dialetto, forse per molti di noi nuovo. Poi per chi non è cremonese come me, il dialetto, anche se si capisce, però è un mondo particolare, comunque molto affascinante. E sentiremo come alcuni poeti dialettali hanno narrato alcune vicende legate alle nostre piazze più importanti e alle loro trasformazioni. Come sappiamo i poeti dialettali sono molto vivi, vivaci e molto ironici anche. A raccontarci tutto ciò, e lo vedete nel piccolo riquadro, il professor Gianluca Barbieri, studioso di dialetto cremonese, forse il più importante, lui non vuole che lo dica, ma in questo momento il più importante studioso di dialetto cremonese, e ricercatore presso l'Università di Parma, che ringrazio ovviamente per aver accolto il nostro invito. A differenza delle altre sere che facevamo partire il video che avevamo realizzato, il video lo faccio partire adesso, però prima faccio una breve, due parole di presentazione. Le altre volte il video era legato al tema dell'incontro, quindi avevamo le piazze che erano oggetto della relazione. Questo video invece si discosta dai precedenti, perché appunto non si sofferma sul tema oggetto dell'incontro, ma ha un valore simbolico. Vedrete il perché. Abbiamo iniziato con il video sul Museo archeologico di San Lorenzo, questo gioiellino che è a Cremona, e chiudiamo con, prima finisco di, con il Museo della Civiltà Contadina, il Cambonino. E ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare la conservatrice, la dottoressa Anna Mosconi, per la collaborazione e per essersi messa appunto a disposizione anche dei nostri tecnici. Il Cambonino è stato scelto, non c'entra niente con la nostra relazione, perché stasera si parlerà di Piazza Roma e di Piazza Piccola, poi Cavour e Stradivari, però è stato scelto appunto per una motivazione ben precisa. Come San Lorenzo, che pochi cremonesi hanno visitato, e anche il Cambonino è abbastanza sconosciuto. Forse è frequentato dalle scolaresche, però il pubblico generalmente è un po' fuori mano la Cascina Cambonino. Però noi abbiamo voluto immaginare idealmente la corte di questa bella Cascina e la stalla come piazza. In effetti un tempo quando la Cascina era abitata dal padrone e dalle famiglie dei contadini, sicuramente si ritrovavano nella corte per parlare e soprattutto, come mi aveva consigliato la dottoressa Mosconi, si trovavano nella stalla alla sera, le donne lavoravano e gli uomini probabilmente si raccontavano in dialetto ciò che era avvenuto durante la giornata. Molto probabilmente i nostri contadini non si saranno raccontati le vicende legate alle piazze, le trasformazioni delle nostre piazze, però si saranno comunque raccontati delle storie e quindi noi abbiamo voluto immaginare anche la corte e la stalla del Cambonino come piazze, piazze virtuali in cui i cremonesi si ritrovavano e si parlavano. Ecco a voi quindi il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Piazza Semplice. A questo punto a me non tocca altro che lasciare la parola al professor Barbieri e lui adesso condividerà il suo schermo. Ci risentiremo al termine della relazione. Può fare condividi schermo? Sì. Condividi. Sei in condivisione schermo? Ah, il powerpoint sotto. Eh, ma ce l'ho già pronto il powerpoint. Ah, così? Ah, ok. Così, così. Così va bene. Deve farlo magari presentazione, deve andare su presentazione come avevamo detto ieri. Sì, presentazione dall'inizio, vero? Dall'inizio. Ah, ecco, perché così si vede a tutto schermo. Ecco, così. Perfetto. Stasera andiamo. Mi rivolgo agli ascoltatori chiedendo scusa per la mia scarsa perizia tecnologica, ma comunque fino a qui ci sono arrivato, quindi andiamo bene. Ecco, inizio con i dovuti ringraziamenti alla dottoressa Angela Bellardi per avermi invitato a tenere questa conversazione, mi verrebbe da dire. E poi, ancora, la dottoressa Raffaella Barbirato e sempre la dottoressa Bellardi per avermi messo a disposizione gran parte delle immagini che vedrete successivamente. Allora, questa relazione sulle piazze nel dialetto cremonese si centra su due autori, su Melchiorre Bellini e su Alfredo Pernice. Di Melchiorre Bellini, peraltro, presenterò solo una sua poesia che poi, a mio avviso, è una delle più belle, ma qui ci arriviamo in un secondo tema. Perché ho scelto questi dottori? Allora, innanzitutto perché sono due tra le voci più alte della nostra poesia in dialetto. E poi perché i loro testi sono stati raccolti e pubblicati in edizione critica. Credo di dover dire brevemente che cos'è un'edizione critica. È un'edizione curata dal punto di vista filologico che fa riferimento alle versioni del testo che precedono quella definitiva. Quindi comprende uno studio preliminare di tutte le versioni manoscritte, dattiloscritte e a stampa che precedono quella finale. In pratica, chi ha pazienza di leggere gli apparati che sono in fondo, di solito, al testo, può ricostruire la storia del testo stesso. Cioè dal primo manoscritto, oddio, non è che abbiamo sempre tutte le redazioni, però soprattutto per il Pernice questo c'è. E' un'impresa, come potete immaginare, molto impegnativa, perché prima richiede di raccogliere tutte le versioni provvisorie dei testi e poi di metterle insieme e di mostrare come si è arrivato all'ultima redazione. Quelle del Bellini e del Pernice sono oltretutto edizioni critiche commentate. Perché? Perché comprendono anche introduzioni ai singoli testi, con informazioni storiche, tematiche, metriche, note a piedi pagina, traduzioni, eccetera, eccetera. Detto questo, comincio dal Bellini. Quella che vedete sulla sinistra è la sovracoperta e quella che vedete a destra, invece, è la copertina vera e propria del volume Poesini di Aletto Cremonese, che come vedete è stato curato dal professor Gianfranco Taglietti. E' stato il primo passo, almeno in ambito cremonese, il primo passo verso uno studio scientifico dei testi in dialetto cremonese. Di solito le poesie in dialetto sono considerate così un'occasione per divertirsi e far due risate, eccetera. Ma in realtà questi sono poeti importanti, per cui meritavano un'edizione critica. Inizierei dal Bellini. Allora, come vedete, tra l'altro, leggete che questo libro è stato pubblicato negli annali della Biblioteca Statale di Cremona e nella sovracoperta trovate anche il Museo della Civiltà Contadina, il Comune di Cremona e l'assessorato all'istruzione e alla cultura. Quindi è nato un po' da una collaborazione tra enti, un tempo si poteva fare, adesso purtroppo risulta più difficile, date le scarse finanze che si possono mettere a disposizione della cultura. Comincio da Melchiorre Bellini. Melchiorre Bellini, 1841-1917. È stato avvocato, giornalista, uomo pubblico, spirito fortemente polemico, frenetico amor di patria, come ha detto Gianfranco Taglietti nella sua introduzione. Ha portato soccorso ai feriti di Solferino e di San Martino, ha combattuto con Garibaldi, a Milazzo, al Volturno e poi a Bezzecca. È sempre stato animato da ideali di rinnovamento sociale e politico, soprattutto per le classi più deboli. È stato consigliere, assessore del Comune, poi anche sindaco. Sempre Taglietti l'ha definito in questo modo che leggo perché è troppo, come dire, perfetta come definizione, come descrizione. Di natura ardente, libero da remore religiose, razionalista convinto. I suoi testi sono animati da un forte anticlericalismo, da un umorismo tagliente e non quello che leggiamo tra poco, ma tanti dei suoi testi, mostrano anche un edonismo radicale, cioè una grossa attrazione per i piaceri, per così dire. Le poesie che sono state raccolte in questo volume sono state pubblicate prima in periodici, strenne, opuscoli, eccetera, eccetera. L'autore aveva già progettato per tre volte di riunire parte delle sue poesie in una pubblicazione organica, ma nessuno è stato realizzato. L'unica edizione che abbiamo è uscita postuma nel 1926 e è stata curata dalla famiglia, ma non è comunque un'edizione completa. Taglietti ha fatto l'edizione completa escludendo però le poesie in lingua a causa del loro valore piuttosto modesto. Il libro di Taglietti è uscito nell'87 e una delle poesie appunto più importanti è questa che si intitola San Domenic in Toc. Allora io poi leggerò anche i testi, mi soffermerò solo sulle parole che magari richiedono una traduzione, poi per il resto credo di avere un pubblico quasi esclusivamente cremonese, quindi quando mi accorgo che c'è qualche piccolo ostacolo mi fermo io. Allora, San Domenic in Toc, che è stato pubblicato sulla strana Il Torrazzo nel 1870 come tema ha la demolizione della chiesa e del convento di San Domenico che si trovava nell'attuale Piazza Roma. Allora, l'immagine che vedete sullo schermo è quella appunto della chiesa e del convento a lato e poi vedete che ci sono altre costruzioni, eccetera. Questa, io quando vedo queste foto mi sento gelare il sangue, ma comunque è un'immagine della demolizione della chiesa e quest'ultima, dopo aver demolito il grosso della chiesa, è rimasto, ma poi è stato abbattuto anche questo, come vedete nel titolo, era la cappella dove si trovava la sepoltura di Stradivari. Allora, i lavori per la demolizione sono stati accompagnati da vent'anni di polemiche tra i fautori della demolizione e i difensori del valore monumentale e artistico dell'edificio. Si è trattato però soprattutto di uno scontro politico, con venature religiose anche. Questa chiesa già di per sé ha avuto una storia travagliata, è stata costruita nel XV secolo, inaugurata nel 1506, poi è stata soppressa alla fine del 700, nel 98 esattamente, con un decreto napoleonico e come accadeva purtroppo spesso quando c'era di mezzo Napoleone, il convento è stato trasformato in caserma. Nel 1859 poi è stata riofficiata, come si dice, ma poco dopo è stata anche chiusa per problemi di statica. Quindi la via forzata era quella verso la demolizione, l'abbattimento che è stato iniziato nel 1869 e concluso nel 77. E poi ecco da lì ha preso il via la trasformazione della piazza nei giardini pubblici che poi ci sono tutt'oggi, anche se sono passati attraverso varie trasformazioni. Allora, passo al testo. San Domenico in pezzi. Se slimesse la facciata deste pover taquin, e mi fermo subito, se slimesse, se sbirciate sulla facciata di questo povero taquino, che cosa vuol dire? Questo povero taquino è l'almanacco, cioè la strena, il torrazzo, sulla quale nel 1870 è stato pubblicato questo testo. Quindi, se sbirciate la copertina di questo povero taquino, vedari litografata bella netta inquadreten la bottega straveciuna della ditta Meneghin. E qui mi devo soffermare ancora, perché qui è veramente l'anticlericalismo impietoso dell'autore. Allora, questa chiesa viene definita bottega straveciuna della ditta Meneghin. Allora, bottega, bottega, negozio. Perché qui l'allusione non troppo implicita è alla vendita delle indulgenze che veniva praticata dai domenicani, o ad altre transazioni finanziarie non troppo lecite. Straveciuna, perché era più che vecchia, della ditta Meneghin. Allora, Domenico, il diminutivo è Menico, promessi sposi. Menico, Menek, Meneghin. Allora, la ditta Meneghin non è altro che San Domenico. Quindi la bottega straveciuna della ditta Meneghin è la chiesa di San Domenico. Che peccato! Una ditta buna nelle zerre del Becchino. Allora, questo zerre, che non si trova da nessuna parte in dialetto cremonese, è stato tradotto da Taglietti con sgrinfie, che ci sta bene. Quindi una ditta che è buona giusto nelle sgrinfie del Becchino. Casca i traf, la tour, i mur, coupe prede a cobul son, buttati all'aria, Meneghin, cioè la chiesa di San Domenico, il tempo è dur e il martello tra in seton. Lo abbatte, lo mette a terra. O che tem Gesù Maria che galera del paese, fino ai Santi sburla via sti frignoni dei cremonesi. La vecciola begutuna, bigotta, prete e basa tavelon, basa tavelon in italiano si direbbe baciapile, cioè persone estremamente bigotta. I vusava per cremona. O che roba da trombon, che roba da briganti. I trombon erano gli archibugi, i fucili dei briganti. Nianca il tridue la messa, la nuena currusari, i apudit fan della spessa contro i pic del sior Ferrari. Allora, nessun intervento religioso ha potuto fan della spessa, come dire, fare barriera, opporsi ai picchi, ai colpi del signor Ferrari. Allora, questo signor Ferrari era l'acquirente della chiesa che aveva anche l'appalto dei lavori. Ecco, spiegato il tutto. Se non ci fossero le note, a distanza di così tanti anni, non capiremmo. Forse qualcuno che era vissuto in quegli anni lì, sì. Ma già vedi deste pass, ben vesen la fin del monte. L'anticrist le lecchie il nas. E la gente va nel profondo. E la gente precipita nell'inferno. E qui, adesso Bellini immagina cosa ci sarà al posto della chiesa. Le, nel post della piletta, al posto dell'acqua santiera, nel 70 vedarum fruttarui con la caretta vender per sec per e pum. Quanto di meno rispettoso si possa immaginare. Adesso ne arrivano le altre. Due il prete sulla berlina, notate, il prete sulla berlina sarebbe sul pulpito. Anche qui è assai poco riverente. Cioè, il pulpito è scambiato con la berlina, che era quella dove mettevano i malfattori, eccetera. Quindi, due il prete sul pulpito predicava i soffradei. Allora, riprendo, scusate. Dove il prete sul pulpito predicava i suoi fratelli, vedarì per Coulumbina da slegnare i magatei. In quello stesso punto ci saranno delle strutture che, all'interno delle quali, si fanno delle messe in scena con i burattini, burattini che si danno legnati uno con l'altro per Colombina, per conquistare il cuore di Colombina. E nel sì dove guarnava il Santissimo Sacramento. Anche qui il verbo direi che non è molto rispettoso. Cioè, letteralmente, è nel luogo dove nascondevano il Santissimo Sacramento, come se fosse una cosa illecita, no? Vedremo il dentista che mette la bava, cioè la bavaglia, al paziente e gli strappa i denti proprio lì dove c'era il Santissimo Sacramento. Povero santo in paradiso, tu sei gato per la gran maga, e il saraca e il rogna e il dis, eccole come i me paga. Povero santo in paradiso, amareggiato per il grande spiacere, e il saraca, cioè impreca, e il rogna, cioè si lamenta e dice, ecco come mi hanno ripagato. Meritavi stafatura dopo tanti benefici? Dopo avicum la tortura stufegazza? Certi stravisi. Ma meritavo io un trattamento simile dopo che ho fatto tanto bene? Dopo che ho soffocato i vizi capitali con la tortura? Ma vodri dal Padre Eterno, è sempre lui che parla, è sempre San Domenico che parla, ma vodri dal Padre Eterno. E se l'è dell'Una Buna, cercherò pene d'inferno da fa curare in Cremona, da riversare su Cremona. Peste, guerra, carestia, tassa mobila e selmasen, cioè l'imposta sulle ricchezze mobili e anche sul macinato. Vi ucciderò di tasse, insomma. Bancarotta e la regia. Deputat, Minister Asen, vi punirò con la bancarotta, con la regia che era, come dire, la ditta che riscuoteva le tasse e quindi un regime di monopolio fiscale, e poi vi punirò con Deputat e Minister Asen. Chiuso il discorso di San Domenico, ecco la quartina conclusiva. Calmate, calmate, calmati, calmati Domenico. Che già adesso c'è una gioia del governo, che non mi sa bene, senza andare al Padre Eterno. Come dire, caro San Domenico, fai a meno di punirci ulteriormente, perché abbiamo un governo che ci ha già ridotti all'osso senza punirci ulteriormente. Ecco, questo è il Pernice con questo suo tono sanguigno e così via. Passando il Bellini. Passando al Pernice, Alfredo Pernice, 1871-1944. Eccolo qua. Allora, anche qui devo dire che, come vedete, anche questo testo in edizione critica, che ho curato io, e ho fatto un'impresa simile, non vi dico il tempo che ci ho messo perché non ci credereste, mi è stato possibile realizzare questo testo da un lato perché c'è stato il contributo dell'Università di Pavia e dell'amministrazione provinciale di Cremona, ma soprattutto perché il professor Taglietti mi ha messo a disposizione una quantità enorme di manoscritti, dattiloscritti, placchette, quando dico placchette alludo a dei fascicoli molto piccoli, fogli volanti a stampa, ritagli di giornali, soprattutto quello che potete, disegni addirittura, documenti del Pernice, eccetera, mi ha dato tutto chiedendomi se volevo fare un'edizione critica di questo autore. Se avessi saputo l'impegno che mi... non so se avrei citato, ma adesso sono ben contento di averlo fatto. All'interno, tra l'altro, ecco, questa è l'edizione delle Bagule Rimade, cioè è l'unica raccolta che ha pubblicato Alfredo Pernice in vita nel 1933, che era stato preceduto da una placchetta intitolata a sua volta Bagule Rimade dal 13, e all'interno di quella enorme borsa con tutti i documenti abbiamo trovato questa, che è, come vedete, la stessa copertina, però all'interno è il progetto del secondo volume delle Bagule Rimade, che doveva avere, come notate, scritto a penna in basso una prefazione di Fanny Brambati. Non è stato possibile pubblicarlo da parte dell'autore perché è morto nel frattempo. Questa è una... così, è un'immagine di uno spartito, perché c'erano anche dei musicisti cremonesi che hanno messo in musica alcuni suoi testi. Allora, Alfredo Pernice. Alfredo Pernice si differenzia in modo significativo dal Bellini, innanzitutto dal punto di vista sociale, in quanto appartiene a una famiglia della piccola borghesia, mentre il Bellini veniva da una famiglia molto benestante, ma anche dal punto di vista politico i due poeti si differenziano, perché se dovessimo ragionare secondo criteri moderni, potremmo dire che il Bellini era di sinistra e invece Pernice era di destra. Cioè, Pernice, pur non militando a quanto mi risulta nel partito fascista, però ha condiviso parecchi tratti ideologici del fascismo. A volte nelle poesie in modo un po' forzato viene da dire, però, insomma, tant'è. Premetto, prima di iniziare a leggere le poesie, che gran parte delle poesie che leggerò, tranne le ultime due, hanno una qualità piuttosto modesta. cioè il Pernice più nobile dal punto di vista poetico è un altro. Ecco, queste sono poesie d'occasione, sono poesie animate da polemica, spesso, oppure da entusiasmi che entrambe queste disposizioni d'animo spesso non si conciliano bene con lo stile e con la poesia. Però sono interessanti soprattutto perché sono testimonianze vissute in diretta di un'epoca di modificazioni urbanistiche della città. Concluderò poi con due poesie di livello ben più elevato, però sulle quali mi soffermo più avanti. Ecco, la prima poesia che leggo si intitola El Jardin Public e, come dire, questa immagine allora, è un'immagine che precede la ristrutturazione contro la quale si scaglia il nostro poeta. tenete presente che sono gli anni in cui allora, questo testo è stato scritto nel 37 e nel 37 Cremona diventa un gigantesco cantiere dove fervono lavori di demolizione e ricostruzione in diverse zone del centro storico grazie alle quali il regime intendeva celebrare la propria grandeure insomma. Dal 1930 è il piano regolatore dell'ingegner Gamba che sostituiva quello precedente di Remolan Franchi poi c'è stata un'ulteriore variante nel 37 però ecco anche la ristrutturazione dei giardini pubblici rientra un po' in questa prospettiva. Allora, questa modificazione che cosa prevedeva? Prevedeva l'eliminazione della pagoda che qui c'è ancora come vedete della pagoda dove si esibiva la banda cittadina poi l'eliminazione della cancellata che cingeva cancellata in ferro che cingeva tutto il giardino si intravede appena appena a sinistra della fontana delle Naadi e poi prevedeva che si eliminasse il cip dei stradivari adesso non vi dico ancora che cos'è ma ci arriviamo più avanti era insomma era un cippo diciamo così che ricordava il luogo della sepoltura di stradivari nella chiesa di San Domenico doveva essere tolto anche allora per la verità sono state razionalizzate le aiuole sono stati sostituiti i lampioni precedenti con altri più moderni che a pernice facevano veramente schifo e doveva essere tolto anche il vaso del convento e tempio allora questo vaso del convento e tempio che vedete qui adesso che lo vedete sapete dove si trova si trova ancora adesso all'ingresso dei giardini pubblici all'ingresso che c'è davanti a quel bar che fino a qualche anno fa si chiamava stradivarius adesso si chiama stradivari non si sa perché vabbè perché ci sarà ma francamente è detto vaso del convento e tempio perché sul basamento oggi non si legge più niente ma c'è scritta questa frase dove furono convento e tempio ecco perché convento e tempio dove furono convento e tempio della inquisizione domenicana volle amenità di piante e fiori il municipale consiglio 1871 come dire abbiamo abbattuto il simbolo della come dire dell'inquisizione domenicana e qui abbiamo piantato fiori abbiamo fatto ai vuole così abbiamo disinquinato l'ambiente per così dire bene il giardin pubblico venendo appena fora dall'andron del cemiterio della galleria qui è già un attacco che è proprio tipico del pernice cioè l'ingresso della galleria è un androne cimiteriale se sbuca al parco della rimembranza l'estetica è più bella purcaria che la gara cremuna in sulla panza tutto il soccar giardin tratta balon rovinato gettato all'aria in del bel vert il gaffadente in scempio spiantata la pagoda dei ponchielli casata rite il cib dei stradivari ne parliamo dopo se avranno fosse col cemento a turno in pen del vas quel del convento e tempio e sparirà la cancellata in turno o te ste quadre che quadreli aiole dei cert mia cremonese e cert su mari perché al giardin strippage i cent lampion per dag la luce dei quater lampadari perché a spiegarla chi in poche parole cambia le piante fora de stagion pelat come il pelè creparat e il bel della città il serein bel bröt ai raggi dal gran sol fatti con centi non più resisterà né fior né foglia murerà i pini i salici piangenti ma resterà sem viva la magnolia e questa magnolia è quella che c'è ancora adesso di fianco alla statua delle naia di del Selleroni adesso è molto più grossa di quella che si vedeva prima sulla sull'immagine precedente beh adesso io la indico col dito ma voi non mi vedete il dito quindi però avete visto allora ma restare a sen viva la magnolia gran pianta che fiorisse in totisit all'ombra al sur e che gamia partit ecco che con questa conclusione estremamente come dire allusiva è come dire ecco la magnolia si è salvata perché non ci sono di mezzo delle polemiche politiche ok i partiti non sono scesi in campo c'è un sonetto poi intitolato in piazza roma attraverso il quale è sempre del 37 attraverso il quale il pernice anche in questo caso critica questi lavori di ristrutturazione dei giardini pubblici e il protagonista di questo testo è la statua di Amilcare Ponchielli che non è stata toccata dalle mire trasformative dei riformatori ma che anche lui fosse rimpiange di essere rimasto lì perché hanno tolto le piante che gli facevano ombra e adesso è alla merce del sole più impietoso in piazza Roma poi Ponchielli pare che si guarda a turno come per domandarsi cosa è successo e il monument è molto opposto di stessa ma che è più il freste del vero che gli va in turno del D che parte bristulis al forno i garrustiti la banda hanno portato hanno rubato hanno portato via la banda e per adesso su una dure è un'uma di cipres con la geretta che gli fa con turno se in temporale portai al giardin a tanti che gli piace se la goda ma a me col mio parere ande bule senza ascoltare del monte e delle bale proprio a quel post preciso della pagoda se fossi in lì che volteressi le spalle cioè se io fossi Ponchielli volterrei le spalle proprio al luogo in cui si esibiva la banda cittadina di cui peraltro Ponchielli per un certo periodo era stato il direttore sonetto piuttosto modesto come vedete però animato da uno spirito polemico che trovo abbastanza divertente sempre su questa scia c'è un altro sonetto anche questo di scarso valore ma che ci dà delle informazioni questo è stato pubblicato prima dei due precedenti nel 29 sulla rivista Cremona e si intitola Supplica al pudestà per stradi vari un solo violente vale un milione e di violente lui ce ne sono molti perché a Cremona abbiamo i suoi che per lui tira fuori un palancon nessuno tira fuori i soldi per costruire una statua se muro in can c'è una sottoscrizione sei giorni per le scuole e sei in comune perché per l'Uga di Troia nessuno non c'è una statua usata ed occasione e me con stessunetta al pudestà che dica che mi permetti car belen te che te sei dei Cremones pupà studia il modo studia il modo di non tenere più in giardino per stradi vari che è l'onore della nostra città come monumento una pietra di confine e qui mi devo soffermare un secondo allora la lapide che vedete in questa immagine si riferisce alla sepoltura di stradi vari io è vero che è un dettaglio ma credo che fosse proprio nella cappella di San Domenico dove è stato seppellito appunto stradi vari questa è un'altra immagine della stessa della stessa lapide rovinata credo dalle intemperie perché sarà stata esposta ma questo non è né un chip e neanche una pietra di confine cioè ha una forma che non è né quella di uno né quella dell'altro allora io quando ho curato questa edizione critica non vi dico sono andato a informarmi da tutti quelli che conoscevo per capire soprattutto le persone anziane molto anziane per capire e nessuno mi sapeva dire e tutti alludevano a quel monumento che c'è ancora adesso ma che risale agli anni 50 quello che c'è verso l'ingresso vicino all'ingresso dei giardini pubblici lato galleria diciamo così in realtà io avevo chiesto anche al museo civico ma neanche nei depositi del museo c'era questo benedetto chip e la scoperta l'ho fatta qualche giorno fa grazie grazie a una ricerca fatta da Fabrizio Loffi che ha trovato in un numero dal settimanale epoca del 1950 questa immagine e la dottoressa Bellardi poi me l'ha passata e io ho lanciato un urlo di gioia perché dopo tanti anni ho capito cos'era questo benedetto chip da Stradivari era quella specie di ecco la preda de Cunfain su cui ci sarà stato scritto qualcosa e qui in modo piuttosto irriverente c'è un cane che gli fa la pipì contro come vedete incarnando probabilmente tutto il disdegno che provava il pernice nei confronti di chi aveva fatto una cosa così squallida per ricordare un grande come Stradivari ecco questo è finalmente il chip dei Stradivari sono stato veramente contento di aver trovato questa immagine di aver trovato di avere avuto la possibilità di bene adesso cambiamo ci spostiamo di lì a pochi metri cioè in quella che un tempo si chiamava piazza piccola che poi è diventata piazza Cavour adesso si chiama piazza Stradivari questo è com'era prima degli interventi funesti che l'hanno massacrata è il lato diciamo verso vedete là il torrazzo quindi vi orientate tutti questo è il monumento a Vittorio Emanuele II che c'era in piazza piccola lo vedete anche qui qui è ripreso da un altro punto di vista monumento che poi è stato trasportato in quella che si chiamava piazza Gammè non è vecchia che adesso si chiama piazza Castello ci sono anche interessante studiare tutte le peregrinazioni delle statue e dei monumenti della nostra città questo qui è andato a finire là ma almeno è riparato queste sono le demolizioni in piazza piccola anche qui mi viene il freddo nelle ossa ma comunque questo dove vedete le impalcature qui sorgeva il palazzo Galizioli che è stato abbattuto per realizzare questa splendida architettura che è il palazzo dell'Adriatica che esiste tuttora non commento qui invece siamo allora quelli della mia età capiscono subito dove siamo perché c'è il semaforo è stato il primo semaforo di Cremona che è stato oggetto tra l'altro di un sonnetto terribile del Pernice che lo sbeffeggiava paragonandolo come forma all'elmo di un soldato non mi ricordo se cinese oppure giapponese ecco qui è stato abbattuto tutto quanto qui sulla destra poi c'è il cinema o ex cinema Tognazzi eccetera ed ecco anche qui cosa è stato costruito penso che sia sufficiente questa immagine bene torniamo alla piazza piccola questa qua no questa eccola allora il testo intitolato la piazza piccola era previsto che fosse pubblicato nel secondo volume delle bagule rimade è stato la piazza piccola è stata pubblicata su un foglio volante non datato il titolo originale completo era in piazza piccola Cavour fiorirà una gran piazza quella del Littorio o piazza Littoria secondo il piano regolatore dell'ingegner Gamba la nuova piazza Littoria doveva essere il principale snodo cittadino in cui doveva confluire tutto il traffico che veniva dalle diverse porte chissà poi perché doveva farlo vabbè comunque insomma ma era pensata anche per le grandi adunate popolari questo soprattutto faceva gola al regime e anche per alcuni spettacoli quello che è stato demolito l'abbiamo visto prima addirittura ad un certo punto quando hanno abbattuto Palazzo Galizioli una parte dell'opinione pubblica voleva che non fosse più costruito niente perché così la piazza sarebbe stata più grande ancora e quindi le adunate chissà come vabbè manco fosse stato un concerto di Vasco Rossi in sostanza la piazza piccola testo molto modesto anche questo è un sonetto molto breve quindi facciamo presto foglio volante intorno al 37 38 in effetti sono tutte molto squadrate se le vedete oggi queste architetture teste quadre cioè sono le finiture squadrate delle finestre questa piazza quindi sarà grande più sede la città sua madre che fa desmenterà qualche gestato purtroppo qui è stato un profeta è una piazza che farà dimenticare il passato perché in effetti come dire è stata talmente a mio parere brutalizzata che il passato non ce lo ricordiamo più teniamo presente che in questi lavori di demolizione prevedevano anche che fosse demolito il portichetto cinquecentesco che c'è ancora adesso e la torre la casa torre che tutti sapete è praticamente in faccia a questo monumento di Vittorio Emanuele doveva essere abbattuto tutto per fortuna anche quel gruppo di case che c'erano in mezzo alla piazza in parte è stato salvato parlane mal saraf notate questa forma arcaica del condizionale noi avremmo detto sares no? parlane mal saraf fasda del mat parlarne male sarebbe farsi dare del mat cioè non è vero che è brutta in fondo dice che la grandiosa in tutti i suori quadri degoste un po' diversi di nostro padre però mi ha fatto sui sacchi burati cioè sembra che sia combattuto anche lui nel dire sì in effetti il bello è un'altra cosa però insomma è stata fatta con cura non è stata fatta sui sacchi baratti è stata fatta non alla bella e meglio si intonerà con la gran piazza e strada alla statua del nostro vecchio re e che farà la testa all'inquadrata ecco che qui si sente la critica che viene fuori si intonerà con la gran piazza e la strada anche la statua di Vittorio Emanuele II al quale faranno la testa quadrata anche a lui in sintonia con tutte le quadrature di queste architetture e il monumento tanto calunniato nell'età nuova in marcia sempre tre sarà più se gradito e rispettato qui lui ogni tanto simula delle conclusioni abbastanza ironiche non mescolando il dialetto con l'italiano così con effetti abbastanza discutibili e il sonetto si conclude con un piccolo monologo di Vittorio Emanuele II messo in corsivo e questo Vittorio Emanuele II sentite le parole del Pernice che prospetta che gli quadreranno la testa dice saccherlot piuttosto che inquadri imnavad piuttosto che mi squadrino me ne vado firmato Vittorio Emanuele II a questo testo se ne aggancia logicamente un altro anche questo è un sonetto quindi breve intitolato Colpi d'Ariete in Via Curzia che è stato pubblicato nel 1938 Via Curzia è quella che oggi si chiama credo di non sbagliarmi Via Gramsci che è quella che va dal giardino pubblico a piazza Stradivari quel pezzetto lì dove ci sono le banche coi portici eccetera era detta Via Curzia perché all'inizio della via c'era un affresco di Giulio Campi con il console V Curzio che per fortuna è stato staccato e è custodito adesso al Museo Civico di Cremona è un testo anche in questo caso che va solo letto Colpi d'Ariete in Via Curzia Per en sol culp Marten la pes la cappa allora cosa vuol dire questo verso per un solo colpo Martino che è San Martino ha perso la cappa cioè qui allude al gesto di San Martino che con un colpo secco di spada ha diviso in due parti il suo mantello Per en sol culp Marten la pes la cappa però Marten in dialetto cremonese era il nome che davano a quel macchinario chiamato battipalo che serviva per conficcare nel terreno i pali che dessero solidità alle strutture degli edifici Per en sol culp Marten la pes la cappa ma il genadà di culp l'alter Marten qui si riferisce alle lamentele che gli abitanti di via Curzia quotidianamente manifestavano perché non ne potevano più di questi rumori di questi botti di questi battipali che martellavano tutto il giorno ma il genadà di culp l'alter Marten che sbuffa pista ciocca e gama i fein e rompe i ceo co e fin la crappa ceo co rompe e questo è facilmente immaginabile ma non si poteva scrivere ma fai palaz dice Vernice ma fai palaz a che vol mia la sapa e a metter so pilone di ruer spain e a piantare piloni di rovere di quercia se che va mia a drè col mulesen non lo si fa con dei modi delicati ma fa la polentina o fa la pappa come fare la polenta o la pappa a fa canoe e a tanti pian che vol più secca a casa sole e le se fami asseda in coad umano e quei che finis mai de lamentas e i dis che i ciocchi che insurdis i urecci per emeset i astupacul bumbas le orecchie no? quindi via curzia la porta un po' pazienza ed ecco il misto di italiano e dialetto virtù si bella per le robe vece quindi via curzia la porta un po' pazienza che la portata all'asen de piasenza e qui conclude in questo modo così piuttosto allegro riportando questo proverbio questo modo di dire che tutti noi conosciamo bene adesso ci spostiamo ancora di qualche decina di metri andiamo in piazza del duomo allora c'è una placchetta intitolata piazza del dom pubblicata nel 31 che comprende dieci sonetti dedicati al non fate quella faccia lì perché non li leggiamo tutti e dieci ne leggiamo due che sono dedicati a tutti i monumenti che ci sono in piazza del duomo e è un approccio soprattutto affettivo che prescinde dai valori artistici dei monumenti della piazza tanto che vi troviamo celebrato addirittura questa cosa orripilante questa qui che ho dovuto fotografarla perché il pudore dei fotografi professionisti l'aveva scartata sono andato domenica scorsa a fotografarla che è il palazzo che allora era detto i agrari che era la sede la giro perché mi inquieta veramente era la sede della federazione agricoltore poi della banca popolare eccetera eccetera che è stato costruito alla fine degli anni venti e che nel contesto della piazza a usare un eufemismo è proprio un'autentica stonatura architettonica ok però lui ce l'ha messo perché vabbè altra parte il regime faceva piacere evidentemente sono dieci sonetti in qualcuno c'è anche qualche errore storico ad esempio in quello intitolato il comune dedicato al palazzo del comune c'è Bianca Maria Visconti che sale a cavallo lo scalone del palazzo comunale che però ecco c'è un piccolo problema che è stato costruito un secolo più tardi di quando lei avrebbe potuto salire per la verità questa è una nota manoscritta chissà poi perché l'ha fatta perché nel sonetto si allude a delle grandame che sono salite a cavallo su questo scalone e poi lui ha aggiunto a penna Bianca Maria Visconti comunque ecco ho sbagliato più un secolo ecco leggo solamente dicevo due sonetti che mi sono sembrati degni di essere letti più le due terzine finali di un altro perché ci mostra così lo spirito più ridanciano ma anche garbato del pernice allora il primo sonetto è intitolato Larengari Larengario è se andate a vedere sul vocabolario il palazzo comunale soprattutto i palazzi comunali di epoca medievale che avevano tutti una sorta di balconcetti non lo so ma in buona parte una sorta di balconcino come questo dal quale si affacciavano le personalità per parlare al popolo il fatto è che per la maggior parte dei cremonesi almeno io ho sempre sentito che quando dicono Larengari alludono a questo qui che ho fotografato tant'è che anche il pernice secondo me la pensava così perché aveva intitolato un sonetto El Comune in cui parla del palazzo del comune e quello intitolato Larengari si riferisce solo a questo balconcino qua dove si affacciava il podestà eccetera eccetera quindi Arengari è diventato sinonimo di quel balconcino ecco questa secondo me è l'immagine più bella dei sonetti dedicati alle trasformazioni del centro storico sentite come inizia Cunen scalet de legna brentadur tete gerive sburlunat insima allora evidentemente per salire lì su dovevano utilizzare una scala che appoggiavano no e il podestà o chi per lui saliva fatica no su questa scala per affacciarsi lì ma perché è bellissima questa similitudine allora il brentadur era colui che si caricava sulle spalle la brenta cioè la bigoncia che serviva per trasportare il mosto e una volta che si era messo sulle spalle questa bigoncia doveva salire una scaletta di legno che era appoggiata al tino per poi versare il contenuto il mosto contenuto in questo in questa bigoncia nel tino ecco e l'immagine del politico che saliva i gradini di questa scala per affacciarsi lì gli richiamava il brentadur secondo me è un'immagine veramente azzeccata e e da la se girando l'os la prima roba che in meng vene al parladur è tutti quei che al popolo con un ur che ha predicato al monte e da là insieme da quei arrivati adesso a quei di prima le glorie del comune con il suo valore ecco chi sale lì è tutto come dire pieno di sé perché sta proseguendo una gloriosa tradizione che è quella dei politici importanti che si rivolgevano al popolo quante parole da quel pugilene giovine vece le parole e fin con sulle muffe ecco anche qui si sente questa serpeggiante polemica no le parole erano giovani vecchie e fino con sulle muffe cioè erano magari attuali però sentivano anche un po' di vecchio addirittura c'erano quelle scontate antiche ma tutte dritte sempre resta spene per far capire chi spetta è che caragna in delle grida i bandi e le barefe semper che il tredes chigenà la magna cioè in fondo il popolo capiva da questi discorsi che solamente una era la regola cioè che non sarebbe cambiato proprio niente semper che il tredes chigenà la magna le campane dal dom quanto 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 set nessuna in allegria le mie campane care del tur se il cuore il sede seda e da dis qua sin del luset della fantasia quando tutte sette suonano in allegria il mio cuore si sveglia sobalza dietro la porticina della mia fantasia lega in parlata ambel de compagnia serie simpatiche anche del fracas le campane che le te porta al cor non ti porta nessun travaglio anche se sono malinconiche senti la voia di cavare il cappello sento l'impulso di togliermi per rispetto il cappello i suoni delle campane che diventano le parole dei nostri antenati infine non poteva non dedicare uno come lui che spesso scherzava e ricorreva a immagini anche piuttosto volgari non poteva non fare riferimento ai culomb del municipio ai piccioni prima li paragona a quelli di piazza il suo marco e poi ecco il quadretto finale che è proprio tipico di questo autore perché come sappiamo i piccioni sono un po' pericolosi quando volano no? ecco e lui conclude dicendo a turno al dom ghe deris c'ha la pelle e ho visto il nostro vescov puaren perdonatemi ma è scritto così cucas a lui una merda in suo cappello e sentite la bellezza della conclusione e l'ho sentito per caso staghe al pel adesso vus un'altra pret vesene roba che Dio la manda e venda al cielo spero che l'abbiate apprezzato anche se è un po' volgarino insomma ecco adesso arriverebbero ma faccio in fretta perché vedo che il tempo sta quasi per scadere agli ultimi due testi che si riferiscono indirettamente a delle piazze ma allora uno è una poesia che si intitola Quanghera i Dazzi quando c'erano i Dazzi è del 1906 e direi che possiamo immaginarla ecco qua questo è il Dazzi a Porta Milano qui la porta era già stata abbattuta vedete lì a sinistra della carrozza la cancellata era stata sostituita da una cancellata e quello sulla sinistra è il luogo dove l'edificio in cui si pagava il Dazzi e allora quindi ci riferiamo allora qui non è esplicitato però direi di collocare questa scenetta a Porta Milano per così dire nella piazza della ex Porta Milano perché anche il testo successivo coinvolge anche lui indirettamente Porta Milano e qui è una scenetta che veramente come dire potrebbe essere anche attuale perché dà un'idea ma poi è inutile che ve lo racconti prima è bello leggerlo sedito la quanghera i Dazzi e il brigadier destà in mese alla porta al Gaditfort in Dazio e me pian pian denti in uffici senza dare baccan cioè senza dare fastidio a nessuno col me dà siat cioè con la cosa sulla quale dovevo pagare il Dazio già fuori dalla sporta l'avevo tirata fuori dalla sporta era un gallo era un gallo per abbreviare i tempi lo tira fuori e lo fa vedere e all'impiegat quel della cassaforta quello addetto alla cassaforte che il me pariva i gradi il più sian sian gomus tra il gal levando in alla man sicurde ciappamia la strada storta dicevrava di essermi comportato bene invece che se capisca sto bel gnal questo bel tipo infastidit per l'atto da pitele disturbate il se ne vita il mal perché fugende stissa men bisiel il ma segnate insier fissa un giornale che il ghi va sui trigradi in sul cappello allora il bisiel è la lingua dei rettili ma è anche il pungiglione delle api fugende stissa ma bisiel vuol dire che era proprio furibondo me il so che disturba cos'è la gente qua è occupata l'en a fare gran e questo stava leggendo il giornale non poteva disturbarlo e l'emai anche a fala da salama anche a fare la figura dello sciocco spetta con calma e flemma il buon momento stessere infatti ai me gran il sedrissat me vighe mi sensam de galavron al cul rabbi de fama si è proprio imbestialito come se gli avessero messo uno sciame di calabroni dietro al sedere calabroni affammatissimi e anche questo era pronto a burirmi in faccia ma in serpente era pronto a ringhiarmi in faccia come una belva noi diremmo no? e al messo esocul gal senna la muta io stavo in silenzio dice la funiasso il giornale ha ripiegato il giornale con serietà e il mafica annucciada d'oste ambrita da dì tra me chi ha des mi fa magna poco sentì una fusca e sota sota la dita è alter guardè un po' salga cioè dopo che lui era lì da un pezzo uno dice guardate un po' che cosa è una situazione in cui ciascuno dialoga con gli altri ma nessuno fa nulla o meglio delega direi meglio agli altri no? fallo tu però nessuno fa nulla due impiegadei antaoli si alzate pratiche del mestere detto in modo ironico con un ucciadino che capisce l'affare del da siate senza tampoc muistare dalla banchina però non si sono spostati dalla panchetta su cui erano seduti infatti un altro socio se vultate il più sbarbattile della cinquina si rivolgono a quello più giovane e con sussiego che ha comandato guarda bigini che gente fagna gallina eh fagli pagare per una gallina e sterti in piccane quest'ultimo tippetto tutta premura complimentusse rusfin al cupen della vergogna e un po' dalla paura e mi venì devulmen assa età fin fuori dal bancone proprio perciò poi so guarda fam la buletta farmi la ricevuta ma chi che incominciano la discussione e in quella tutti i cinchi interveniti se guardava in faccia rimbambiti senza capire se dalle ragioni l'engal l'enagalina il parcapone le roba morte in pe cioè è morto di morte naturale e i gavorit pucciaghe tutti il nas intestardit che le ghera de cerco un trevenzione partono dall'idea che lì c'era da dare sicuramente una multa e a far passare le tariffe scartabella di notes de memorie l'on l'on che piende nommer me le riffe come le lotterie decret sura decreti ha messo sura e ha tirata mano in me de storie che genovita sé per una mesura e vediamo come si conclude per taia curte dagen passa la e capo ecco il capo che interviene però il gaffan la conclusione e infem polga ciapasta decision cioè si è messo in gioco il capo e ha detto da sia il galet sarà qualche sarà come dire vada come deve andare ma mi assumo io la responsabilità di mettere il dazio su un gallo e le indendite fatte l'autorità della sovusla da sturdination e anche questo è tipico del pernice quello di mescolare in modo buffo l'italiano con il dialetto per dare l'impressione di un parlante sciocco che ci si faccia per l'operazione sotto la mia responsabilità la rabbia le che foro al brigadier non ne poteva più di stare lì in servizio che l'obbligo di guardare se è sincero il suo compito era quello di controllare che le cose venissero fatte per bene in del palpame ad osse sotto al brasse il malassate in d'ambro e scupassone con il bruntulame ad re come tregas ecco qui la scenetta che possiamo immaginare in quell'edificio per concludere vedete come è scritto con un piglio ben diverso dai testi che abbiamo letto in precedenza l'ultimo è quello più bello di tutti secondo me tra quelli che vi presento si intitola le banchette del passec è un testo pubblicato nel 1906 il passec è il pubblico passeggio pubblico passeggio bastione da Porta Venezia a Porta Milano demolito per igiene e decoro nell'anno 1912 questa era un'aggiunta che è stata scritta su un'edizione successiva ma insomma poco importa allora questo è il passeggio pubblico che come vedete era costituito da due piste una pedonale alberata questa di destra e l'altra rotabile dove passavano le carrozze eccetera col fondo in ghiaia per accedervi c'erano sette rampe poi c'era la contrada del passeggio da cui si poteva accedere c'erano cinque baluardi lungo il suo percorso e andava da via corrispondeva all'attuale viale Trento Trieste in sostanza era stato inaugurato questo bastione nel 1787 come luogo di svago per i cremonesi poi ad un certo punto ad un certo punto si è deciso di abbatterlo di abbatterlo per questioni che anche qui io mi sforzo di raccontare con distacco ma che veramente cioè visto così mi vengono mi viene in mente Lucca le mura di Lucca con questi vabbè e qui li hanno abbattuti comunque insomma lavori di abbattimento imponenti impegnativi ecco qua la demolizione lavori di sterro del baluardo e questi lavori sono stati talmente seguiti dai cremonesi eccetera eccetera che sono stati non tutti sono d'accordo rappresentati in questo bellissimo quadro di Carlo Vittori bene tra l'altro viene spontaneo chiedersi ma perché l'hanno abbattuto allora da un lato perché nel frattempo erano stati realizzati i giardini pubblici e la gente andava soprattutto là per passeggiare e aveva un po' disertato questo luogo poi inoltre avevano costruito delle case vicine al bastione e quindi questo da un lato ostacolava la ventilazione delle case come se a Cremona ci fosse mai stato un gran vento e ciò che provocava una certa umidità e oltretutto erano previsti dei lavori di ampliamento e di riforma dell'ospedale l'ospedale vecchio che era appena lì dietro e quindi insomma alla fine della suonata li hanno abbattuto tutto e questo 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 testo con cui concludiamo questa lettura ne sono dilungato una decina di minuti più del previsto ma adesso faccio presto si titola Le banchette del passegg ed è una una narrazione commossa e piena di affetto nei confronti del passegg del pubblico passeggio e in particolare delle panchine è interessante il fatto che allora queste questo passegg era il luogo in cui quando c'era buio c'erano tante panchine su cui si rifugiavano dei fidanzatini o dei fidanzatoni dipende dall'età e tra le guardie che c'erano lì nelle diverse garitte che erano presenti lungo il percorso dove c'erano le guardie che tra l'altro avevano turni di 24 ore si creava una sorta di patto di omertà implicito tra le coppie dei fidanzatini e queste e queste guardie qua beh adesso vengo al testo perché è inutile che continui a parlare le banchette del passeggio sono le protagoniste loro le panchine ben ingrugnata in fondo alla galetta cioè ben rannicchiata in fondo alla garitta la guardia della porta la pisula ora questa porta probabilmente era la porta nuova che i cremonesi chiamavano porta inferi che era stata aperta mi pare nel 1896 comunque alla fine dell'800 in corrispondenza dell'attuale largo Paolo Sarpi era detta porta inferi perché si passava attraverso quella porta lì per andare al cimitero ben ingrugnata in fonte la galetta la guardia della porta la pisula la notte le bella fresca e ghena rietta de primavera in fiur che consula per il passeggio gheni anche una banchetta voda le piante al ventre le sedindula e i broc più in alto i rami più in alto chi va come in barchetta sembrano oscillare come una barchetta sulle onde il cerca de basarsi se svergula anche i rami sembra che cerchino di baciarsi e si contorcono per avvicinarsi più possibile uno all'altro al baluard poi la processione del muruset al scur l'enrabadan l'ensghignassat sottkos di nascosto medescundione e in me a stessi sur a questo sussurro se sent lontan purtà dal vent i valser de passion del balarot che ghe a Porta Milano evidentemente c'era una balera a Porta Milano e i suoni e le musiche giungevano fino lì se le pudesse parlare a mosti banchette che intasse se le storie del passato di furni che là insieme i gas li sa dalle siurasse fino alle bagliette i furni sono i deretani i sederi delle persone che si sedevano lì sopra e che hanno levigato queste panchine dai sederi delle signorone fino a quelli delle bagliette purtasse al tenda il core le scuffiette tornare al tempo del guardinfante delle cuffiette i surtu stretti in vita e campanati i soprabiti stretti in vita e scampanati le braghe con la pata i corpi cioè i panciotti sgulati la moda di cilinder delle aghette delle ghette parlasse di tudesque e di francese è un modo di dire che adesso non si usa più ma significa in generale parlare dei tempi passati e pudinda ben sotto alla brunis cioè la cenere dopo le 10 perché dopo le 10 c'era buio allora ci si sbacciucchiava in modo un po' più deciso e vedek denter charcum indespes persenter se l'è vera qualchidis la gran moralità dei nostri vecchi forse non è vero che i nostri vecchi erano così attaccati alla morale perché andavano lì anche loro chi mai ne ha kunus ste puligane chi non ha mai conosciuto queste ruffiane parla delle panchine nadre del gioco cioè fiancheggiatrici del gioco amoroso divan sotto le stele bei teme dalle prime scappadele ed i primi ben scunditi cari ruffiane dai primi sentimenti siete state le ruffiane le ragassette amocun le sutane desura di senos russe murele dalla vergogna intra dell'ur più tele le asgulusi e spera stipuiane queste svergognate cioè le panchine ancora e quanti muruset se dai stretteni riva là desfrusme biligotte come persone sciocche biligotte sono le castagne secche lessate ma di solito dare a uno dal biligotte è come dargli dall'imbranato si direbbe per noi sarebbe quasi primo pomeriggio però allora mezzanotte voleva dire che era notte fonda allora i rocchi sono i richiami dagli uccelli quindi bei richiami della vita spensierate è il vostro civetà delle panchine nel sen per quel una studentessa con un sargentel una serva e un vesbursone un vecchio galante una maridata c'era anche qualcuna che era sposata vena una panchina con iadi toche schignulata tutta malmessa un'altra ben poco sicura in del scagnel che teni botta siete complici voi panchine e che metti la pelle ce la mettete tutta per far chi perda mai la vostra strada e le tambelle stelle scondite al schire fagelgnal sicure sta pulere stare lì a proprio agio su queste panchine che imbarva al marmor pien de gogne e dur che nonostante il marmor sia tutto sconnesso e duro insieme al baluar vers la muralla in delle nodi stati l'empassarer un cinguettio compagno dell'uselanda del ravaia adesso noi ovviamente non sappiamo chi è questo ravaia ma evidentemente era uno che aveva delle voliere delle gabbie con degli uccelli che cinguettavano giorno e notte conclusione la benvenida sta in la primavera e il mese di marcia e il mese del batacor e le pampogne e i sales in custera i maggiolini al teppore del sole sui salici sono arrivati anche loro le piante in giug le piante in germoglio ed ecco qui ma purtroppo la prestata perché la fera perché i la dis e a me mi piance il cor banchette i ve fasa cattiva cera eh tira una brutta aria per voi banchette e ste passec massis le adreche il muore conclusione vo viste sempre le panchine sottansul che c'ha mai fiur cumpassionade cioè ricordate con commozione ayer fincul magon col nodo in gola da dove c'è t'in gambe arzilli a moi in vigura ancora in forza che passavano di lì no? e anche loro sanno che andrà a finire male per queste panchine e il che disiva piani in denureccia lui all'evesenda sta in mesa al stradon con gli os lisent te le ricordate beccia bene io direi che ho concluso e e basta spero che non vi siate annoiati troppo ecco io devo assolutamente ringraziare il professor barbieri perché ci ha fatto trascorrere un giovedì santo tutto particolare spero non siamo stati molto sacrilegi però veramente non avrei mai immaginato che in una poesia dialettale io non riconoscevo ci potessero essere tanti spunti così per la storia di Cremona io so che ci sono molti architetti e comunque anche da quest'incontro così particolare abbiamo conosciuto comunque una una piccola porzione ma una porzione significativa della storia urbanistica e architettonica di di Cremona fantastica io già la sapevo perché me l'aveva già preannunciata poi la statua usata di Stradivari è veramente eccezionale pensiamo che il primo violin di Stradivari venne acquistato dall'ente del turismo il famoso cremonese 1715 solo nel 1961 quindi veramente questi poeti antesignani no di queste di queste situazioni di questa vita di questa vita cremonese veramente grazie perché dai commenti anche che ho visto anche sulla diretta facebook veramente molto hanno gradito tutti questa serata pure densa di notizie però nello stesso tempo molto lieve lei poi molto ironico devo dire anche nel commentare le poesie quindi grazie veramente per questa opportunità e ad oscura se mi sono dilungato un po' era talmente gradevole che non saremmo stati ancora prima di salutare appunto e di ringraziare tutti e di augurare una buona Pasqua pur nella difficoltà di queste chiusure devo rinnovare naturalmente i ringraziamenti ai miei compagni di viaggio Nicola Rigoni Sonia Tassini che con me hanno un po' progettato anzi soprattutto Nicola Rigoni è stata l'anima della progettazione di questo percorso quindi un grazie speciale ai relatori Marina Volontè lo stesso Arrigoni Fabrizio Loppi e ora il nostro amico Gianluca Barbieri in questa occasione si devono fare poi dei ringraziamenti non formali ma sentiti in particolare a Mauro Maffi per i video e per la post-produzione delle registrazioni delle conferenze che ricordo sono tutte pubblicate sul canale YouTube della società storica e infine l'amica Silvia Corbani la nostra grafica che ha curato la grafica e i social e soprattutto in alcuni casi ha tenuto con mano molto ferma i rapporti con i relatori quando i tempi erano un po' dilatati da ultimo ma certamente non ultimo ti per importanza il comune di Cremona e che è l'assessore Luca Burgazzi che sempre ci aiuta sempre ci sostiene che ci ha permesso di far la ripresa sia del museo archeologico che quello del Cambonino gli incontri sulle piazze terminano qui per ora per riprendere poi a settembre con un taglio completamente diverso in cui le stesse piazze di cui abbiamo parlato in queste sere verranno trattate dal punto di vista storico architettonico e urbanistico però non vi abbandoniamo anzi se avete visto qualcuno ha visto sul nostro quotidiano sulla provincia che anche noi facciamo parte del gruppo che si occupa di Dante su richiesta dell'assessore Burgazzi abbiamo ipotizzato anche per la società storica un percorso dantesco per i 700 anni della morte naturalmente noi non ci occuperemo né di Divina Commedia né di altre opere ma abbiamo immaginato ci siamo immaginati che Dante fosse venuto a Cremona e quindi cercheremo di raccontare a Dante la Cremona del suo tempo molti saranno i relatori sette se non sbaglio e ognuno di loro tratterà in breve alcuni aspetti il fiume quindi il fiume com'era dove si trovava i commerci il porto di Cremona l'economia quindi i mercanti la storia politica non abbiamo voluto fare la storia solita tra Guelfi e Di Bellini ma concentrarci su un personaggio il mitico Buoso da Dovara che anche Dante ricorda anche se non lo cita per nome quindi l'arte l'architettura e infine la cultura cioè cosa si studiava la scuola cremonese naturalmente a breve dopo Pasqua riceve e non sono dimenticata e anche un appendice che in realtà sarà un'introduzione avremo un racconto di un Dante cronista di guerra attraverso il racconto delle battaglie di Montaperti e di Campaldino attraverso una collezione di soldatini di un grande collezionista cremonese una collezione unica e molto particolare come dicevo riceverete quanto prima dalla società storica cioè da me anche tutto il calendario e di volta in volta la cartolina e il link per partecipare al momento pensiamo che gli incontri saranno ancora con queste modalità perché non sappiamo come sarà la situazione se anche potremmo uscire a parte che la gente è comunque fuori se potremmo uscire con un po' più di libertà difficilmente potremmo trovarci in una sala al chiuso quindi ormai insomma ci stiamo impratichendo magari con qualche difficoltà iniziale di queste nuove tecnologie quindi ci rivedremo seppur in modo virtuale a breve a metà a metà aprile io quindi non ho altro che augurare a tutti una buona Pasqua e come sempre una buonanotte a presto a tutti grazie